Grazie a tutti Grazie a tutti Buongiorno Buongiorno Come stanno svegliarsi per vivere due questa mattina? Io solitamente vado a letto a quell'ora, invece stavolta mi sono dovuto svegliare a quest'ora però ecco il problema non era la sveglia, il problema è che io non ho messo appunto la sveglia ma ho messo l'addormentata che è un meccanismo che è fatto da tutta una serie di marchigegni con un martello sopra una mazza che dopo mezz'ora dà un colpo qui e così finalmente ti addormenti e puoi dormire quelle 3-4 ore per arrivare a fare questa follia di Rosario Fiorello Gli auguri sono dubbici perché c'è il suo compleanno e poi c'è Tutti Su Eh sì, beh sì, c'è il nostro compleanno il 16 maggio e poi sì, c'è Tutti Su in questi giorni nelle sale cinematografiche Tutti Su è un film tratto dal dodicesimo concerto a Caracalla è molto interessante perché coloro che l'hanno visto già potranno vedere tante cose da vicino che ad occhio nudo non si riescono ad apprezzare, il suono è... Oh, che è la sua faccia? E questa è una figlia dalla Malesia che sta con gli oranchi che ti prendono con lui Ciao Orango! E' un oranchio piccolino C'è un orango vero, ragazzi, c'è un orango In diretta, sta lavorando con gli auguri Facciamo la foto Grazie E questa c'è Questa è per me, vediamo Grazie, grazie Forza fortuna Che carina Un coccinelle quindi... Ma so penne! Grazie Ti ho fatto il buracino trent'anni fa Ho fatto i caroghi a scuola Senti, trent'anni fa ho fatto i caroghi a scuola con i bambini E questo era il presentatore Se qua te lo regalo Grazie, ma veramente, me fa piacere sì Trent'anni fa mi vedevano così Se vieno così Ho fatto i bambini Grazie I capelli erano neri neri, eh? I capelli neri Noi ma la vogliamo la foto Ce l'ho buona Che viva Ci voglio bene, grazie Ce l'abbiamo portato La spunta blu e cazzo te l'hanno chiesto Ma l'hai maledata? Lo so però in caso d'ordone Mentre... Questa che spunta... Ah vedi è così La spunta blu, guarda Ce l'ho, eh? Siamo nati per piacere Grazie, lo so Andatello Questa è bellissima Guarda questa piccolina Guarda, 60 auguri Te lo tengo Grazie, ragazzi, grazie C'è una pasticcetta E' fantastico Vieni, ci trovo In gelato In gelato Ciao, fiore Auguri, auguri Uh, vieni ragazzi Mi ero fatta in casa Tieni, questo come lo mangiamo Grazie, facceli io Accompagnata con un bel formaggio Brava Vai Auguri, auguri, auguri Davvero? Sì Ma quanti 16 mangi ci stanno? Dico sempre E' più di più E' più di più Ciao A me me lo dici Oh, mi ti auguro Francesco Francesco Francesco, tanti anni Ma cosa ti hai fatto? Ma cosa ti hai fatto? Non ci hai sentito il nome Ah, ciao Francesco Per i tuoi 80 anni Tanti auguri, eh Francesco, auguri Allora, questo è il regalo Che io ho portato per te Che sarà il mio ultimo libro E' per te proprio Complimenti Lo vengo io Il libretto Allora Siamo, non è qua? 1, 2, 2, 1 Si, la castellata Fabrica La storia d'amore questa? Oh, bella c'è Grazie Ciao Ciao Grazie Grazie Dai, senti Da qui a 9 Io sei 60 Da qui a 9 giugno Da qui a 9 giugno, eh Esatto, se vuoi Ok?